La fase 2 nei cantieri pubblici riparte da qui. Non si entra non prima di aver effettuato attraverso un termoscanner la rilevazione della temperatura corporea. Accade in tutti i cantieri così come nel cantiere pubblico per il completamento di Piazza della Libertà dove per la RCM Costruzioni del gruppo Rainone sono al lavoro 28 operai. Uno degli interventi pubblici più attesi dalla città di Salerno è ripreso in questa fase 2 non prima di aver ottemperato a tutte quelle che sono le disposizioni in materia di sicurezza particolarmente incisive e dettagliate nel settore dei cantieri. Gli operai come mostrano le immagini realizzate questa mattina all'interno del cantiere oltre ai tradizionali dispositivi di sicurezza devono indossare anche la mascherina. L'obiettivo della RCM Costruzioni è recuperare il tempo perso e consegnare quanto prima il lavoro che prevede una piazza con un grosso valore estetico perché realizzerà un ampio spazio aperto nel cuore della città ma doterà il capoluogo anche di un prezioso ed importante parcheggio.